L'Istituto Claudia de' Medici di Bolzano sarà la prima scuola in Alto Adige ad attivare dal prossimo anno scolastico un nuovo corso di studi dedicato ai comunicatori nell'ambito dei social media all'interno delle aziende. Due giornate di porte aperte per gli studenti interessati. La scuola è tradizione come nel caso dell'Istituto Claudia de' Medici, uno degli istituti più antichi del capoluogo con quasi 100 anni di storia. Questa tradizione deve andare avanti di pari passo con l'innovazione, da qui l'idea ambiziosa di creare un nuovo indirizzo dedicato al social media marketing. Una figura molto richiesta da aziende e organizzazioni, sempre più alla ricerca di una professionalità di riferimento per individuare strategie di successo nel mercato del lavoro. La scuola in lingua italiana dell'Alto Adige, anche con queste novità, vuole continuare a seguire una direzione ben precisa, preparare i giovani per le esigenze future di una società che non si ferma. Nel mercato del lavoro di oggi i social media assumono ormai una valenza fondamentale anche all'interno delle aziende, svolgendo un ruolo determinante nella promozione e nella comunicazione delle attività, dei prodotti e dei servizi. Da questi presupposti la scuola italiana dell'Alto Adige ha deciso di promuovere dal prossimo anno scolastico un nuovo indirizzo. Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti perché un altro tassello nella riorganizzazione della scuola secondaria di secondo grado per la scuola italiana in Alto Adige è stato posto con social media marketing qui al De Medici. Siamo soddisfatti perché nasce innanzitutto dall'esigenza del territorio, da una riflessione sui tassi di occupabilità e soprattutto diamo un indirizzo che è nuovo in tutta la nostra provincia. Social media marketing in qualche maniera risponde alle nuove esigenze perché mettiamo la tecnologia a sostegno delle aziende. I nostri studenti si occuperanno di web e di tutto quello che riguarda la tecnologia a favore delle aziende dove lavoreranno. Il corso della durata di cinque anni punterà a sviluppare tra gli studenti le conoscenze negli ambiti della progettazione e della creazione di un sito web, il corretto e funzionale utilizzo dei social, lo sviluppo delle applicazioni, la creazione di database e nell'ultimo anno la realizzazione di un business plan. Completano l'offerta una serie di ore di pratica in laboratorio, oltre a periodi di praticantato grazie alle collaborazioni con enti e realtà del tessuto economico non solo locale. Cura dell'Istituto De Medici è sempre stata quella di cercare un collegamento efficace con il territorio per cogliere le richieste che provengono dalle aziende, curare gli sbocchi professionali, combinando la teoria che si studia a scuola con le pratiche specifiche orientate al mondo del lavoro. Si tratta quindi di un percorso formativo che propone e mira a consolidare un bagaglio culturale di base, che permetta la prosecuzione degli studi e della formazione senza trascurare le competenze tecnico-professionali specifiche. Un'attenzione particolare è rivolta ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai diversi laboratori, a progetti e conferenze, che definiscano in modo completo la figura professionale di riferimento. In questa visione si inserisce la maggiore attenzione al mondo del lavoro contemporaneo, apprezzondendo l'aspetto social media marketing. Alla base rimangono le tecniche professionali, dei servizi commerciali, il diritto, l'economia, le tecniche di comunicazione, coniugate con i nuovi linguaggi e le nuove prospettive del lavoro. Questo significa un maggior numero di ore dedicate alle tecnologie informatiche all'inglese, in modo da creare un profilo professionale che consenta al nostro diplomato di svolgere, oltre alle consuete attività nell'ambito della gestione di processi amministrativi e commerciali, anche attività di comunicazione e promozione aziendale, come la collaborazione alla realizzazione di campagne di marketing attraverso il web e i social. Nell'arco dei cinque anni di studio, lo studente dei servizi commerciali, social media marketing, affronterà quindi la progettazione e creazione di un sito web, l'utilizzo dei social, lo sviluppo di un'app, la creazione di database e infine la realizzazione di un business plan. In sintesi, il diplomato nei servizi commerciali, social media marketing, ha competenze professionali che gli consentono di supportare le aziende operanti nei diversi settori, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione, con un'attenzione particolare all'utilizzo dell'informatica come strumento di comunicazione e promozione aziendale con una visione internazionale. Il nuovo corso social media marketing sarà presentato in maniera più ampia nel corso di due giornate di porte aperte previste all'Istituto dei Medici venerdì 15 gennaio dalle 16 alle 18 e il mercoledì 3 febbraio dalle 15 alle 18. Per ragioni di sicurezza legate alla situazione epidemiologica, si potrà accedere alle giornate solo su prenotazione.